perché ho voluto fare oggi questo video, indovinate un po' perché perché oggi è il 21 maggio e quindi oggi praticamente faccio un anno che sto su youtube scusate la voce ma sono rovinata, cause sudate, in questi giorni non si capisce il tempo che vuole fare, comunque prima di parlare del video, del giveaway, volevo ringraziare tutti le ragazze che mi hanno sempre sostenuta in tutto questo mio primo anno su youtube, veramente siete sedentante che mi seguite e mi fa piacere avere i vostri commenti e le vostre richieste, che altro? Sono felice e spero di esservi di aiuto sempre e mi raccomando seguitemi sempre 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 e niente ora passiamo al giveaway, allora il giveaway parte oggi 21 maggio e termina il 30 maggio quindi avete più o meno 10 giorni mi sembra di tempo, cercherò di fare l'estrazione il giorno stesso della scadenza, poi le regole fondamentali mi raccomando non andate avanti allora essere iscritti al canale, mettere tra i vostri video questo video fra i vostri preferiti, essere residenti in Italia o comunque qualcuno come al solito che possa ritirare il pacchetto per voi e che dire quello che come commento ho pensato una cosa che ho visto fare anche in altri video in altri giveaway quello di non so commentatemi un vostro un mio video uno dei miei video quello più che vi piace di più, cioè quello che io parlo di nail art, quello dove io parlo di make up però mi dovete dire proprio quale tra i tanti, non dovete soltanto scrivermi mi piacciono i tuoi video di make up basta, no dovete scrivermi il titolo di quello in cui vi piace e mettere il pollice in su, nient'altro, queste sono le regole fondamentali che io vi chiedo e niente ora passo ai premi spero che vi piacciono e niente allora il primo il primo omaggio che io voglio regarvi è un fondotinta della Kiko questo qua che è il perfect glow fondotinta che è lo 02 allora voglio dirvi solo una cosa questo fondotinta io quando l'ho comprato l'ho comprato l'ho comprato diciamo un po' di tempo fa quindi la scatolina è un po' rovinata però il prodotto integro non ve lo faccio vedere allora questa è la spugnetta come potete ben vedere che esce all'interno del fondotinta questo è il fondotinta vedete nuovo e poi c'è ovviamente lo specchietto e il fondotinta vedete è nuovo non è stato proprio toccato vedete poi una matita della Essence quella per le sopracciglia questa qua questa è la numero 2 no 3 light brown e ha lo scovolino vedete faccio vedere nuova è per voi poi uno smalto della nail polish della Issy Cosmetics mi sembra che già ah si vi ho regalato quello la bianco che dovete sostituire con quelli della Rivelle questo qua pieno pieno di glitteroni un po' misti poi uno della Crystal che è un rosso anch'esso pieno di glitter piccini però sempre grossi questo qua poi dei applicatori per occhi della Emanuela Biffoli questi qua che hanno due estremità diverse che ne sono poi infine abbiamo dei campioncini allora campioncini della Kiko che sono due della crema anti age quella da giorno e quella da notte eccole qua eccole qua le nuove poi di fondotinta della Kiko ecco due matt e due della skin questi qua poi uno della della Deborah questo di fondotinta sempre fondotinta della Deborah e poi infine abbiamo un bagno doccia dell'Erborario che è la corteccia poi una crema fluida corpo alle tre artemisie sempre dell'Erborario e poi in ultimo il bagno schiuma addolcente per il corpo corpo dell'Erborario sempre che si chiama Peonie la mia voce e niente ragazzi questi sono i miei premi spero che vi piacciono che altro dirvi scusate anche se avevo questa voce così orribilante per parlare ho voluto fare lo stesso il video perché mi sembrava giusto premiarvi dopo questo anno di Youtube perché soltanto grazie a voi io sono sono riuscita ad andare avanti per un anno spero di andare avanti ancora niente ragazze spero che i premi vi siano piaciuti vi scrivo anche nell'info box tutte le informazioni tutte le regole per partecipare al giveaway mi raccomando spero che sarete in tante vi mando un grande bacio e alla prossima ciao ragazze grazie